Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix Oggi sono qui con un nuovo video di GTA Online in cui illustrerò come andare a Northankton Ovvero la zona innevata che trovate alla prima missione Ed entrare nella sua banca, sempre quella della prima missione, su GTA Online Ovviamente in questa zona potete trovare anche il cimitero che però non sto a spiegare quale sia Perché se no poi dopo spoiler la gente mi dice Spoiler, hai detto la storia, questo e quello Vi dico solamente che c'è anche quel cimitero che molti di voi pensano Cominciamo subito con i glitch Per prima cosa dovrete avviare la primissima missione Da partita, rigioca, missione principale, prologo Una volta fatto ciò dovrete fare parte della missione E dovrete giocare quella missione fino a che non uscirete dalla banca Mentre voi state facendo questo, il vostro amico dovrà creare una sessione sulla invito Ed ovviamente aspettarvi fino a che non sarete usciti dalla banca Quando poi siete fuori dalla banca Vi fate invitare, entrate nella sessione sulla inviti E se volete che pure l'host carichi questa mappa Dovrà fare la stessa cosa lui Voi però dovrete aspettarlo nella sessione che lui vi ha invitato Praticamente vi invita, voi entrate Poi lui esce dalla partita Voi state sempre nella sessione in cui vi ha invitato Lo aspettate, lo invitate e quindi tutti e due avrete la mappa caricata Io poi, vabbè, ovviamente non ho fatto vedere completamente il procedimento Quindi ve lo dico solamente a parole Anche perché sarebbe stato inutile, mi sembra una cosa semplice Quindi una volta che siete pronti tutti e due Tutte e tre, tutte e quattro, eccetera, eccetera Per prendere un elicottero il modo più semplice è quello di chiamare la Merry Weather Chiedere un passaggio in elicottero e quindi uccidere il pilota che guida l'elicottero E quindi fatto questo dovrete aprire il menu di pausa Poi andare nella mappa e mettere un indicatore in basso a destra In fondo, in fondo, in basso a destra Lo vedete comunque anche nel video dove posizionare l'indicatore della mappa Una volta che avete posizionato l'indicatore lo seguite sul radar E in lontananza se vedete delle texture strane avete fatto correttamente i glitch E voi ovviamente andate incontro a queste texture Andando incontro a queste texture Voi ovviamente entrate in queste texture senza problemi E andando ancora avanti, oltre le texture, dovreste vedere una specie di cittadina innevata E quella è North Yankton Per quanto riguarda invece il glitch della banca Dovete andare a nord di North Yankton, ovvero della cittadina Proprio la direzione con cui siete andati in questo glitch Seguendo una specie di strada desolata Questa vi porterà a tre edifici attaccati Uno alto, uno basso, uno medio E quella sarà la banca Comunque la strada è un po' lontana Infatti come vedete ho dovuto velocizzare il video Quindi non mollate nel percorso Perché prima o poi compariranno questi tre edifici Una volta che siete in questa banca Dovrete trovare una porta di un garage con scritto Keep Clear Voi la oltrepassate senza problemi Non c'è nessun glitch da fare per oltrepassarla È come se fosse un oggetto invisibile Quindi una volta che siete dentro Dovete andare a destra in alto In un angolino E chiamare qualcuno per farvi dare un'attività Quando vi comparirà l'attività Voi l'avviate E una volta avviata Ci uscite subito Proprio avvio e poi uscita E quindi vi dovreste comparire dentro la banca Detto questo Se vi va date un'occhiata al canale di Dream Se lo trovate in descrizione Lasciate un mi piace Ci vorranno solamente due secondi A cliccare quel bottone blu Lasciate anche un mi piace alla pagina Facebook Se vi va La trovate sempre in descrizione Commentate se avete domande Dove richieste Cercherò di rispondervi il più velocemente possibile Ed iscrivetevi per altri contenuti di GTA V Da ZWheelX è tutto Al prossimo video